La settima giornata del campionato di eccellenza toscana Girone B mette di fronte nel derby senese il Mazzola Val d'Arbia, padroni di casa e la Chiantigiana che attraversa un momento molto difficile con cinque sconfitte in altrettante uscite. I bianco celesti invece, reduci dalla sconfitta di Castiglion Fiorentino, vogliono tornare a fare punti in campionato. L'inizio è vehemente per la squadra ospite con Taflai subito in avanti riesce a disimpegnare molto bene il pallone se lo sposta sul sinistro, la palla che sorvola di pochi centimetri la traversa. Ancora Chiantigiana in avanti su calcio d'angolo e diurno al limite dell'area in impegnare Florindi, poi sulla respinta ci prova ancora la squadra ospite con una deviazione, palla in angolo. Il Mazzola Val d'Arbia risponde al quarto d'ora con il solito Pierangeli, palla sul suo sinistro, è bravissimo Signorini ad allungarsi e bloccare la sfera. Ancora padroni di casa, Nassi lancio millimetrico in avanti per Pierangeli, il rimbalzo lo trae in inganno e poi con il sinistro ancora con conclude però troppo alto, dall'altra parte ancora la Chiantigiana che si fa vedere, un pallone messo nel mezzo, non riescono ad arrivare né Taflai né Nieri con la palla che clamorosamente termina sul fondo. Ottima occasione per gli Amaranto all'inizio della ripresa e subito Mazzola Val d'Arbia in avanti, in qualche modo la palla arriva a Baroni che riesce a battere Signorini per il vantaggio delle Mazzola Val d'Arbia, il primo gol in campionato per l'uomo con la maschera, grande esultanza e un gol liberatorio che il Mazzola Val d'Arbia ha faticato a trovare nelle precedenti uscite, Baroni classe 2003 la butta dentro, Cicali che nella ripresa entrato a dare manforte alla sua squadra si fa vedere subito al cinquantesimo con il sinistro, Signorini in due tempi blocca, è sempre la squadra di casa in avanti ancora con Cicali ad inventare, arriva al limite dell'area, manda in porta Cavallini che però non riesce con il tocco sotto a battere le portiere, palla che termina in angolo, grande occasione per il raddoppio ma è il preludio al gol del 2 a 0 che arriva a minuto 65, lancio di Gianneschi, Cicali in posizione regolare, se ne va, salta Signorini, deposita nel rete con tutta facilità il gol del 2 a 0, terzo gol in campionato per l'ex Aglianese, due su rigore, uno su azione e il Mazzola Val d'Arbia al 65esimo scappa, la reazione della Chiantigiana sta tutto in questo tiro da fuori area di Icioni sul quale Florindi in due tempi dice di no, non succede più nulla, dopo quattro minuti di recupero la signora Possanzini di Foligno mette fine alla contesa, il Mazzola Val d'Arbia torna a guadagnare tre punti in classifica, sale a quota 10 mentre per la Chiantigiana è ancora notte fonda, sempre in fondo alla classifica a quota 0.